In questo nuovo video tutorial per la compilazione della domanda delle gradatorie provinciali per le supplenze del biegno 2020-21-2022 andiamo a vedere dopo aver fatto vedere la scelta delle gradatorie di interesse fasce titoli di accesso dopo aver fatto vedere i titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso ovvero la sezione B e l'inserimento anche dei titoli di servizio adesso andiamo a vedere i titoli di preferenza come si dichiarano? Si accede nell'area titoli di preferenza e qui troverete ben 20 richieste più una ventunesima andiamo a vedere come si compila la richiesta più diffusa è la numero 17 la numero 17 è aver prestato l'odevole di servizio a qualunque titolo per non meno di un anno alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione per cui si seleziona tutti coloro che hanno almeno un anno di servizio prestato come docenti o comunque alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione devono indicare questa preferenza ricordiamo che il lodevole di servizio si intende che non ci siano note di demerito la numero 18 è un'altra molto richiesta ed è chi è coniugato oppure anche non coniugato ma con figli a carico per esempio se un docente dovesse avere due figli a carico mette il numero 2 e avrà selezionato anche quest'altra preferenza altra preferenza può essere aver prestato senza demerito servizio alle dipendenze dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni per cui anche il servizio di leva o il servizio civile è un servizio prestato alle dipendenze dello Stato oppure aver prestato un anno in almeno un anno senza demerito in altre pubbliche amministrazioni si deve cliccare qui in questa preferenza ci sono anche altre preferenze che si possono scorrere come per esempio essere figlio di mutilato o invalido per servizio nel settore pubblico e privato la numero 12 qui si deve mettere l'ente che ha riconosciuto tale invalidità e inserirla oppure i genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra molto raro comunque ci sono varie preferenze che vanno indicate per esempio pensa alla numero 7 l'orfano di caduto per servizio nel settore pubblico e nel settore privato ecco queste sono le preferenze che vanno genericamente segnalate in questa sezione speriamo che questo video tutorial sia stato chiaro per i nostri lettori seguiteci ancora sul nostro canale youtube sul nostro sito www.tecnica della scuola perché faremo altri video riguardo le altre sezioni da compilare della domanda per le gradatorie provinciali d'istituto per le supplenze un saluto a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti